Di Stefano, passate le vacanze, passato il periodo estivo, le torna a chiedere con insistenza al più presto il ritorno alle urne in Abruzzo. Perché? Innanzitutto perché ritengo che sia assurdo che dopo 140 giorni di governo illegittimo da parte di Luciano D'Alfonso, perché doveva dimettersi il 23 di marzo e invece si è dimesso solo il 10 di agosto, oggi si continua a traccheggiare e la scelta è solo ed esclusivamente politica, non ci si nasconda dietro il Presidente della Corte d'Appello. Per cui il Partito Democratico, nella sua interezza a cominciare dall'attuale Presidente Lolli, deve assumersi la responsabilità di riportare la Regione alla normalità quanto prima, cioè io immagino intorno alla metà di novembre, perché non è più possibile andare avanti così e contestualmente deve fermarsi da assumere scelte ancora più deleterie di quelle che hanno fatto in questi quattro anni. Lei chiede di tornare al più presto a votare, ma il futuro politico di Fabrizio Di Stefano sarà ancora all'interno di Forza Italia? Io ho già dichiarato più volte che intendo sottoporre a tutte le forze del centro-destra, la mia disponibilità, e l'ho fatta anche in queste ultime settimane, per correre per questa difficile ma entusiasmante gara che è la Presidenza della Regione Abruzzo. E voglio farla con tutte le forze politiche del centro-destra, perché ritengo che tutto il centro-destra deve essere riunito verso questo obiettivo, che non è soltanto la vittoria elettorale, partita entusiasmante, difficile, ma non la più difficile. La più difficile sarà quella di ridare una speranza all'Abruzzo e un Abruzzo migliore dopo i disastri combinati da tutto il Partito Democratico, non soltanto da D'Alfonso.